un benvenuto a tutti da meteo groana giornata uggiosa grigia quella di oggi proprio per le nuvole basse che sono stati presenti sul nostro territorio dalla cartina vediamo i dati registrati quest'oggi 19 di novembre le minime 9 6 a bollate 9 4 cesate 7 6 a ceriano laghetto le massime 11 8 a bollate 11 4 a cesate 11 6 a ceriano laghetto massimi vedete che sono abbastate proprio per la copertura del cielo perché il cielo è coperto vedete il corpo di alta pressione che ci sta invadendo sta invadendo un po quasi tutta l'italia però sono presenti nuvole basse e nebbia la nebbia ci farà visita soprattutto nella giornata di domani anche sui nostri settori e questo tempo permarrà fino a domenica vediamo alla sera del 19 di novembre la distribuzione termica si sono un po alzate le temperature anche sulle alpi ma abbastanza fredde comunque anche tutta la pienura padana e l'appellino andiamo a vedere il radar le precipitazioni sono scomparse ormai il nucleo che ha flagellato l'italia centro meridionale si è proprio di sotto andiamo allora a controllare a vedere cosa ci dice il modello di modello matematico vedete siamo sotto un corpo di alta pressione che permarrà anche domani anche se comincerà già a disgregarsi ad opera della discesa che adesso vedremo dal nord atlantico di un corpo di bassa pressione infatti già domenica questo corpo di bassa pressione prenderà corpo su soprattutto sulla nostra parte del territorio delle gruane comunque l'italia nord occidentale e porterà delle precipitazioni con un calo termico tutto poi durerà per tutta la settimana e addirittura a fine settimana prossima si prevede addirittura una nuova discesa più fredda e più perturbata ancora da parte delle isole scandinave avremo modo di parlare di questa seconda discesa intanto vi faccio vedere gli accumuli previsti da qua fino alla metà del giorno 22 di pioggia vedete il nostro settore abbastanza colpito con circa 40 50 e vedremo poi domani i prossimi giorni se questo verrà confermato intanto la carta al suolo prevista per domani vedete alta pressione quindi presenza di nebbia sul nostro territorio andiamo a vedere le previsioni domani e che il 20 di novembre sabato nebbia un po di schiarite dalla nebbia soprattutto nelle euro centrali della giornata più 6 la minima più 12 la massima domenica 21 nebbia al mattino ma poi vedete che il cielo si copre cominciano le prime deboli precipitazioni 6 10 le temperature la neve oltre 1.400 e 1.500 metri andiamo lunedì 22 più agli un po più intense e più 8 più 12 la temperatura la neve ancora oltre i 1.500 metri bene vi ringrazio dell'ascolto video appuntamento al prossimo bollettino vi auguro sereno sabato 20 novembre da meteo corano e arrivederci a tutti